I 27 dell'Unione Europea sono tutti d'accordo sulla necessità di concedere una proroga al Regno Unito sulla Brexit. È l'esito della riunione degli ambasciatori oggi a Bruxelles. Non c'è ancora un'intesa sull'entità della proroga. L'unica opzione sul tavolo è quella del Presidente del Consiglio Europeo, Donald Tusk, per il 31 gennaio. L'annuncio del premier britannico Boris Johnson di volere elezioni anticipate nel Regno Unito ha superato anche le esitazioni dei francesi, i più riluttanti a concedere una proroga. Gli ambasciatori si riuniranno all'inizio della settimana prossima per finalizzare l'intesa.